88 secondi per parlare di 88 minuti. Il film di stasera, un film diretto da John Havnett, di cui abbiamo già proposto L'angolo rosso e Pomodori verdi fritti, un ex produttore passato con successo alla regia, un thriller con Al Pacino che è stato stroncatissimo unanimemente o quasi da tutta la critica americana. Una delle cose più carine che gli hanno scritto è che la sceneggiatura è stupendamente stupida, che avrebbero dovuto cavalcarne la trascitudine e proprio giocare su quello, mentre invece l'hanno girato seriamente e il film non si può prendere sul serio. Hanno detto che il finale ricorda più il Cirque du Soleil che una scena di tensione e vi spiego il perché. Si parla di un assassino molto creativo che cattura le ragazze, le droga, le appende a testa in giù e poi le uccide in maniera molto elaborata. Il protagonista, Al Pacino, è uno psichiatra forense che nove anni prima dell'azione principale del film ha fatto imprigionare un presunto serial killer e a un certo punto comincia a ricevere dei messaggi che gli annunciano di avere ormai 88 minuti di vita. Il film non dura esattamente 88 minuti. È andato benissimo sempre in televisione. È un film che ha funzionato poco al cinema ma in tv e non video marcia come non si sa che cosa. È un film avvincente, cruento, non per tutti, quindi decisamente per un pubblico adulto e per il quale vi devo dire una curiosità. Esiste un film che dura 24 ore che si chiama The Clock e che è fatto di frammenti rubati da altri film in ciascuno dei quali qualcuno fa vedere un orologio o dice un numero. In quel caso si dice You have ten minutes. A noi ne sono rimasti un secondo.